Ciao ragazze e bentornate nel mio canale Oggi con questo video cerco di rispondere in un certo senso a una richiesta che molte ragazze mi hanno fatto in passato In molte mi avete chiesto di mostrarvi la mia make up collection Se mi seguite sapete che ho un cane che avrei dovuto chiamare Attila e non Nico Perché lui mi prende tutto, si arrampica sulla scrivania, mi ruba gli smalti, pennelli, rossetti Infatti io le cose le nascondo, non ce le ho tutte esposte in modo carino e ordinato Non appena troverò una sistemazione davvero buona che mi piace Vi prometto che filmerò quel video Però ho pensato che comunque se non vi posso fare mostrare come ho messo la disposizione di tutti i trucchi e le cose che ho Magari vi posso iniziare a far vedere le cose che ho nello specifico Anche perché ho riflettuto che quando si fanno i video di make up collection Uno fa una carrellata, qui ci sono i blush, qui ci sono le palette, qui c'è questo, qui c'è quello Ma non vedi fisicamente che cosa ha la persona Quindi magari io faccio il qualsiasso inverso Vi mostro quello che ho e poi dopo vi farò vedere la disposizione di tutto Se Nico permetterà un giorno o l'altro La prima cosa che vi vorrei mostrare è la mia collezione di rossetti di Kiko Tenete conto che tutti quelli che vi mostro li ho comprati in tre anni Tre anni e mezzo, quasi Non utilizzo tantissimi rossetti Io prendo quelli che penso davvero di poter indossare Perché non sono come quelle ragazze che hanno di ogni rossetto tutte le nuanze esistenti Più che altro io sono così per gli omeletti, non per i rossetti Comunque bando alle ciance, non abbiamo fuori tema Vi mostro quelli che sono i miei rossetti di Kiko Purtroppo alcuni sono talmente vecchi che penso che siano anche fuori produzione Non ci siano più, però comunque ve li mostro Parto da quello al quale sono davvero super affezionata Perché è stato il primo rossetto acquistato da me in tutta la mia vita Questo qui che non ha, cioè la scritta è bella, che è sfumata, è andata Il 193, qui sotto c'è il colore, questa collezione non esiste più Ed è un colore che ho da una vita Ma più, infatti, l'ho utilizzato, eh La verità è che l'ho utilizzato Però, diciamo che questo lo utilizzo per tutti, tutti i giorni Me lo porto, lo utilizzo anche a modi burro cacao Perché ha una formulazione praticamente pari allo zero come pigmentazione Sembra quasi un lucidalabbra barra puro cacao E poi anche un profumo che mi piace, quasi di biscotto Quindi mi piace applicarlo perché mi dà questa sensazione di questo buon profumo E questo è stato il primo rossetto della mia vita Il secondo rossetto mi avvicinavo al mondo del colore Ma che colore non è perché è un nude Eppure lo adoro, eh Con questa confezioncina grigia che ormai non c'è più È tutta graffiata perché questo lo metto sempre come quello Lo metto dentro i jeans, me lo porto in giro E lo ripasso anche senza guardare perché è questa la cosa bella di rossetti nude E questo colore, anche questo l'ho utilizzato, eh Sono stata brava E questo penso di averlo da tre anni Ed è quasi a metà del tubino Ma io lo trovo il nude perfetto per le mie labbra Mi piace tantissimo L'odore anche questo è del biscotto Quindi o sono le mie labbra che danno l'odore di biscotto Ma io non sono un biscotto Quindi non lo so Ma mi piace davvero tanto l'odore Però questi penso che non ci siano più Questo nude è il 278 della linea Matte Lipstick Mia madre utilizza un rossetto matte della linea di Kiko Se vi può interessare di quelli là che sono tipo dorati Con il click di sotto che ti fa uscire il rossetto Ed è davvero similissimo a questo colore Lei si trova bene e lo ricompra praticamente ogni mese e mezzo Perché lo divora anche lei Passiamo ad un'altra collezione che penso non ci sia più Perché sono i rossetti di Kiko In questa confezioncina nera Con la parte centrale argentata Qui diciamo che adesso ero entrata nella fase del Buttiamoci sui colori Questo rossetto proprio il 92 L'ho utilizzato in tantissimi tutorial Soprattutto all'inizio Quando ho iniziato a fare video Perché è un rosa È un nude che tende a rosato Mentre invece quello che vi ho mostrato prima Tende più al peggiolino marroncino Questo invece è più rosa E anche questo l'ho utilizzato tutti i giorni Però devo dire che la formulazione Non mi fa impazzire Oggi però col senno di poi Vi dico che non mi fa impazzire All'epoca mi sentivo super figa Ho detto wow Guarda che figo questo rossetto Ve l'ho comprato Talmente contenta di averne presi Altri due di cui Uno è una cosa schifosissima Forse questo o l'altro Ve lo faccio vedere Comunque tutti hanno una sorta di difetto Nel packaging secondo me Non li ho quasi utilizzati Potete vedere Praticamente sono quasi totalmente interi Non so che cosa pensavo Quando li ho comprati Perché veramente Comunque Sembra quasi che Ti sta per rimanere questa parte in mano Perché proprio sembra troppo cenevole Comunque Allora Il 14 Parliamo del 14 Questo qui Penso che sia O diventato matte O è matte Perché comunque È molto molto secco E tende anche questo Verso il nude marroncino Però dà decisamente colore alle labbra Non è uno di quei nude invisibili E devo dire che questo l'ho riscoperto Perché visto così nel tubicino Noi ho regalato un centesimo Quando poi ho avuto intenzione Di riprendere a fare i video così Ho detto ma wow E l'ho utilizzato qualche volta In estate Però Non mi piace proprio tanto La formulazione di questi E questo ragazza È veramente È un rossetto da nonna Non so perché l'ho comprato Mi ricordo che era Nei cassettini Nei banchettini Quelli delle cose a un euro E quindi io mi faccio casare sempre Ero all'inizio Se compriamo E ho comprato un rossetto marrone Marrone Io non ne uso Ma a parte che è proprio rotto E non l'ho mai utilizzato Se non per sbocciarlo Cioè allora Se oggi col senno di poi Io applicassi sotto o sopra Una matita differente O qualcosa Sì potrebbe andare Ma un rossetto marrone Proprio da donna grande Non so che cosa pensavo Quando l'ho comprato Altri due rossetti Che diciamo Mi hanno portata Ad entrare un po' nel mondo del colore Ma sono partita sempre Prima con il nude E poi sono andata sul colore Sono questi qui Gli ultraglossi Allora gli ultraglossi Mi piacciono Mi piace L'odore Mi piace La formulazione Però è chiaro che Essendo glossi Durano Lasciano il tempo che trovano Il nude che ho preso Che è stato il primo È l'802 Devo dire che la formula È molto cremosa Molto cremosa Però essendo nude Dura poco Anche per questo Al di là dell'essere glossi È cremoso Non è assolutamente matta Infatti si chiama ultraglossi Sembra quasi lucida labbra Quindi comunque ci può stare Da tutti i giorni Lo puoi ripassare se va via Il primo rosso Che io abbia mai preso Questo rosso fragola Molto lucido Quindi comunque Il primo rosso che prendi E lo prendi lucido Che si nota ancora di più Sì Vabbè Errori Comunque non è un rosso molto intenso Tende più al fucsia Quindi diciamo un rosso fragola Mi piace tanto questo Mi piace tutto l'anno E devo dire che Pur essendo glossi Non ha una durata Pessima Pessima Comunque pigmentato Ha un'ottima pigmentazione E quindi dura L'effetto glossi va via E' chiaro che Non durerà mai Come un rossetto matte Però Se volete approcciarvi Ai rossetti rossi Provatene uno così Per vedervi Perché poi sapete magari Che va via Se invece mettete un matte Molto resistente Magari vi sentite a disagio Tutta la sera Se non ci siete abituate Provate qualcosa del genere Che sapete Che comunque Con un tovaiolino Bevendo Mangiando Va via E se vi sentite A vostro mangi Lo li mettete Oppure comunque State serene Che non l'avrete ancora Su le labbra Poi C'è stata una collezione Natalizia Questo qui Praticamente Considerate Che è stato Nel 2012 2012 Se non erro Io Tipo Ho un terzo Quarto video Che ho pubblicato Su youtube In cui vi parlo Di questo rossetto Non ricordo Il nome della collezione Ma Era una collezione Natalizia Infatti il packaging È bianco Satinato E poi Questo era Il colore Che è praticamente Se ci fate caso Il borgogno È il colore Autunnale Invernale Da due anni Ormai Quindi sì Era questo E ricordo Che io Andai Alla collina A sbocciare Il diva E siccome Sono state Antipatiche Le commesse E mi era sembrato Di trovare Una somiglianza Con questo di Kiko Decisi Di andare Da Kiko Li ho sbocciati Assieme Perché non avevo Pulito Lo sboccio Della mano E mi sono resa Conta Che praticamente Sono davvero Dupe Davvero Dupe Solo che Quello di MAC È decisamente Matte Questo è super 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 cremoso Quindi Quando la mettete Dovete mettere Una velina La cipra Dovete fare in modo Che rimanga lì Fermo Perché i colori scuri Se vanno via È un pastrocchio Fino a quando Un nude Ti puoi ripulire Ma vi immaginate questo Sembra che Avete ficcato La testa In un piatto Di pasta Col nero Delle seppie Però comunque È bellissimo E io lo trovo L'esatto Dupe Identico Del diva Di MAC Ed è il numero 06 Di quella collezione Di Kiko Di cui non ricordo Sto cercando Di andare In ordine Praticamente Cronologico E poi Dopo aver preso Questo rossettone Subito Scuro Mi sono lanciata In verso questi Che sono Nella linea permanente Li trovo Ottimi Non so se abbiano Un nome specifico Ma comunque Il packaging è questo E li trovate ancora Ne dico Perché li vedo Sempre là E di questi Vengono parlare Anche dei prodotti Di top Di Kiko Che ho fatto proprio Il video Sono partita Sempre dal nude Cioè di ogni collezione Io provo sempre il nude Perché dico Se il nude mi piace Figura di quelli Che sono molto pigmentati Il nude Tendenzialmente Va via Basta che respiri Quindi se questi nude Sono buoni Evidentemente La formulazione è buona Questo nude Nello specifico Allora Tendo a cancellarmi Le labbra Perché veramente Mi sento un po' Nicki Minaj Quando lo metto Però lo modulo Vado a mettere sopra Una tinta Più rosata E viene un colore Molto bello Il problema di questo È che è talmente Tanto cremoso Talmente tanto Che poi mi fa tutto Lo striscio All'interno Delle labbra Ed è una cosa Che io odio Mi dà un fastidio A parte a livello estetico Mi dà fastidio Perché proprio La senti quella linea Dentro le labbra Da troppo fastidio Quindi diciamo Che questo nude È buono Il colore È modulato Stratificato È tutto Però La formulazione del nude No È stranamente Il 914 Che è quello Che indosso adesso Invece non è così Questo qui Lo amo Veramente È meraviglioso Meraviglioso Perché Lo puoi Sia picchiettare Sia mettere a colore pieno Ed è questo Ovviamente Meno scuro Di questo qui Che è secondo me Il dupe di Viva Ma lo trovo Perfetto Per l'inverno Lo trovo Perfetto Per la primavera Anche Andando avanti Mi ricordo Che presi Contemporaneamente Allo stesso giorno Con mia sorella Un gloss Ed anche Un matitone Rossetto Matte Finalmente Allora Il gloss È Extra Volume Lip Gloss Plumping And Moisturizing Action Questi qua ci sono ancora Linea permanente Il mio è Nella tonalità 20 Devo dire Che è un lip gloss E che è davvero Volumizzante Non dà l'effetto Appiccicoso Sulle labbra Ma Ragazze Lasciate i brillantini Ovunque Sarete tante piccole Edward Cullen Che camminano È pieno zeppo Di brillantini È una cosa bellissima Sì però Poi quando tu Parli Bevi Tu spargi i brillantini Lasci la tascia È tipo pollicino Anziché le brice Le lascio i brillantini Però comunque È un buon gloss Ma trovo che ce ne siano Anche di migliori La cosa buona È che non ti dà Quell'effetto Appiccicaticcio È lo stesso giorno Presi della Boulevard Rock Rock Idol Lipstick Il mio primo matitone Matte E qua ragazze Ho iniziato a gettarmi Sui colori sgargianti Andiamo di fucsia Super intenso Questo mi piace tanto Lo utilizzo anche in inverno Basta che metto Una matita scura di sotto Una matita labbra scura E poi vado a fare tipo topping sopra Tipo top coat con questo Che comunque è matte E vado a opacizzare Qualsiasi cosa ho messo Anche è una matita un po' più scintillante Questo qui era E nella tonalità 06 Forse qualcosa della Boulevard Rock C'è ancora in negozio E sui siti online Se vi può interessare E trovo che sia un ottimo matitone Comprato questo ho iniziato a comprare Anche rossetti e tinte un po' più pazze Che avete avuto modo di vedere Anche in altri video Ultimo acquisto Prima di andare a fare gli altri Lunedì sarà il mio compleanno Ma penso che voi vedrete questo video Quando il mio compleanno Sarà già passato Quindi potreste sapere Anzi vi dico già in anticipo Perché lo so Che ci sarà un video All di Kiko Perché c'è tutta la nuova collezione Rebel Romantica Tutti quei rossetti E il set del contouring Voglio prendere tutto Quindi stay tuned Comunque l'ultima cosa Che ho preso da Kiko Ma già ci sarò stata Quando voi vedrete il video È questa tinta Come si chiama? Aspettate Double Touch 10 Hour Lipstick È un rossetto Una tinta Che ha anche la parte di gloss Che ho utilizzato solo due volte Ma questa tinta ragazze Meravigliosa La metto sopra qualsiasi matita Che sia fucsia Che sia a bordo E mi fa durare tutto da morire Anche la tinta da sola Mi piace Dura davvero tanto Io questa la mettevo al lavoro Pranzavo Stavo 8 ore in ufficio E non andava via Quindi è una cosa incredibile Mi piace davvero tanto E penso che anche di questa Voglio prendere i colori Un po' più sghergianti Perché ripeto Se questo qui Che è un rosellina malva Dura tanto Figuratevi colori Ancora più intensi Ragazze Il video di oggi Sulla Collezione di rossetti Kiko Che ho è terminato Spero davvero tanto Che l'idea vi sia piaciuta Perché cerco di venirvi incontro E mostrarvi quello che ho Ma una volta che sarà disposto E ordinato E organizzato Vi prometto che vi farò vedere Tutta la make up collection Ma spero che l'idea di mostrarvi Dei prodottini Tutti Aggruppati In una volta Vi possa piacere Se si iscrivetemelo sotto Lo farò anche per altre cose Magari per palette Se vi può interessare Vi mando un grossissimo bacio Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti